Salerno Pizza Expo 2014 Stanno cantando La serata va avanti Ma questa è stata La serata del freestyle E qui a fianco a me Un concorrente davvero speciale Nome e cognome? Antonio Fiorillo Da dove vieni Antonio? Montecorvino Pugliano Hai una pizzeria? Sì, pizzeria napoletana Dove? Pio Pratole Ah ok, come si chiama la pizzeria? Pizzeria napoletana Ah, si chiama pizzeria napoletana proprio Sì, lo abbiamo dedicato al nostro maestro Carmelo Ciamariconda Ah, per favore Il quale ci ha insegnato tutto Ascolta Antonio, quante ore ti alleni al giorno per fare freestyle? Ci alleniamo da l'una di notte Dopo che finiamo di lavorare Fino alle 4-5 del mattino tutti i giorni Quattro ore al giorno Quattro ore alla notte La notte, sì Purtroppo solo alla notte possiamo allenarci Perché lavoriamo mattina e sera Ti piace tanto il freestyle? Sì Il freestyle è il mio stile di vita Sogni di diventare un campione allora? Sì Già ho vinto il 2005 il campionato mondiale a squadra Ah E sono arrivato due volte al secondo singolo Ah, quindi sei molto vicino alla perfezione Sì Speriamo Augurio da Antonio Questa è Pizza Expo 2014 da Salerno Francesco Zazzera Si aggiudica il primo campionato di freestyler di Pizza Expo Antonio Fiorillo Eccolo lì! Ha vinto Fiorillo Ha vinto Fiorillo Performance eccellente quella di Fiorillo Ed eccolo qua Ha avuto anche oltretutto l'handicap di dover gareggiare ulteriormente Perché aveva fatto solo tre dei quattro minuti a disposizione della sua performance Grazie a tutti